Occhi giornali mercoledì 3 febbraio, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV che ci seguite come ogni mattina in tantissimi, numerosissimi, sempre di più, questo ci fa molto piacere, davvero di cuore. Siamo qui per sfogliare i giornali che abbiamo già selezionato per voi, lo faremo tra un istante, prima andiamo a vedere il santo di oggi, è un santo importante e soprattutto anche per noi qui a Fano dove abbiamo una chiesa dedicata proprio a San Biagio, se avete problemi di gola rivolgetevi a lui. 7.26 l'alba, 17.23 il tramonto. Uno sguardo a trebimeteo.com con questa immagine che ci dà subito l'idea di quello che sarà nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico con lo stop all'inverno, l'anticiclone subtropicale che porterà temperature anche miti nella nostra regione, anche se molto di più dal centro sud, nella zona centro meridionale dell'Italia, ma anche noi avremo la nostra dose di giornate serene o poco nuvolose, come ci indica il bollettino di oggi della protezione civile delle Marche, c'è poco da dire nel senso che a parte qualche breve rovescio sui settori montani della nostra provincia pesarese, per il resto c'è poco da aggiungere, anche domani vedete sole con un po' di nuvole medio-alte, nuvolosità a tratti anche intensa, le temperature sono in aumento, così come per la giornata di venerdì. Ancora condizioni stabili per la giornata di sabato e poi un peggioramento durante le giornate di lunedì e domeniche lunedì. Ora tocca a Mario Draghi, questo è il titolo della foto a tutta pagina sull'edizione nazionale dell'arresto del Carlino, arriva Draghi, Fico getta la spugna, drammatico appello di Mattarella ai partiti, crisi e virus no al voto, serve un governo forte, un governo di salvezza nazionale, scrive Raffaele Marmo questa mattina in prima pagina, un tracollo del pilli, il prodotto interno lordo, da economia di guerra, un disastro occupazionale che ha visto bruciare centomila posti di lavoro solo a dicembre, con donne e giovani a pagare il prezzo più elevato. Un paese allo stremo senza certezze sui due più potenti fattori di ripresa, il vaccino e il recovery plan. La premessa è netta, la conseguenza altrettanto netta l'ha fatta, la tratta esemplarmente ieri il Presidente della Repubblica appunto Mattarella nel suo discorso. Le cronache locali con il Carlino di Pesero, 7 mila in gara per 53 posti, un maxi concorso alla Vitri Frigo per aspiranti operatori sociosanitari. Lotteria degli scontrini, partenza flop, pochissimi negozianti hanno adeguato i registratori di cassa, regna l'incertezza e qualcuno già protesta. Eden Viaggi, stop agli esuberi, sollievo per 270 dipendenti, Natale 2021 da overbooking, turismo, previsioni rosa per i prossimi mesi. Perché previsioni rosa, perché naturalmente ormai siamo in tanti a pensare, a sperare, a pregare perché questa epidemia finisca, perlomeno anche ciclicamente, come sono finite le epidemie nel corso della storia dell'umanità, almeno dopo due anni, un anno e mezzo, due, questa cosa dovrebbe finire, dovrebbe lasciarci campare un po' più serenamente. Quindi Natale prossimo in teoria dovrebbe essere un Natale con un brutto ricordo che è quello della pandemia, ma con un ritorno lento alla normalità. Il calcio in prima pagina, sempre dal Carlino. Vis, torna il campionato, oggi Ravenna al Benelli, poi Atletica, Lollo Angelini, frantume il record dei 200 metri. E ancora la cronaca, spillava, qui c'è un processo al Tribunale di Pesaro, spillava soldi dallo stipendio dei camerieri condannato tre anni ad un direttore di albergo. Allora andiamo adesso sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro. Studenti in bus che odissea, il titolo d'apertura. In classe arrivano in ritardo oppure addirittura a piedi le criticità rimarcate a pochi giorni dal ritorno a scuola al 50%. Le maggiori segnalazioni dai ragazzi dell'Istituto Cecchi, disagi per alcune linee che servono anche l'Interland. Ressa per la conquista del posto fisso, quindi stessa foto, stesso argomento per la fotonotizia scelta dal Corriere questa mattina per il concorsone alla Vitri Frigo. Poi il report cresce la quota dei furbetti con il reddito di cittadinanza. Scrive Andrea Taffi, altro che casi sporadici per i controlli a campione svolti dalla direzione regionale IMSS sugli assegni erogati, il fenomeno dei furbetti dei redditi di cittadinanza nelle marche sta acquisendo proporzioni sempre più preoccupanti, raggiungendo l'imbarazzante quota di un percettore in debito ogni due domande controllate del campione. Questo la dice lunga su tante cose che però adesso non abbiamo il tempo di analizzare. Sintomatico 1 su 9, il contagiato medio adesso ha 45 anni, traffic scanner, altri 8 varchi, video sorvegliati a Pesaro e poi palazzo a fuoco nella notte, evacuate 5 famiglie, paura a Petriano, rogo in salotto, 3 finiscono all'ospedale, vigili al lavoro per ore, si mobilita la comunità. Poi si parla del tirreno adriatico di ciclismo, meno marche ma di qualità. Ripartiamo dunque dai sintomi Covid, solo in un caso su 9, praticamente gli altri sono tutti asintomatici, non hanno sintomi. Intanto c'è l'abbassamento della quota media dei contagiati, perché parliamo di persone che hanno intorno ai 45 anni, secondo quanto riportano i dati di gennaio dell'osservatorio epidemiologico regionale che completa l'analisi della seconda ondata. Ancona è la provincia con più casi ma anche con più tamponi. Sull'altra pagina invece test positivi al 18%, il boom dei guariti aumentano i ricoveri ma ci sono 4 persone in meno in terapia intensiva. Sulle terapie intensive appunto il numero è 68 pazienti dopo il picco di 91 a fine novembre. Ora qui c'è solo da augurarsi e da sperare che quando parliamo di meno 4 in terapia intensiva significa che meno 4 persone sono uscite con le proprie gambe dall'ospedale e non in altro modo. Positivi invece per comune c'è una classifica che il Corriere Adriatico pubblica questa mattina dove possiamo vedere così a colpo d'occhio come Ancona ha il numero maggiore e quindi si attesta, diventa diciamo la città più colpita dal punto di vista dei positivi con 924 casi, seguita da Pesaro 793, Fano 592, poi Civitanova, Osimo, Senigallia eccetera eccetera. Mentre andrei un attimo sul Carlino nazionale di nuovo perché il titolo ci fa capire subito un po' come stanno andando le cose ma non c'era bisogno del titolo e di un articolo per capire che la Pfizer che è l'azienda farmaceutica che produce tra l'altro anche il Viagra, ecco perché il titolo, che produce appunto anche il vaccino, questa azienda farmaceutica veda conti assolutamente in rosa straordinari per quest'anno, per il 2021. Il vaccino è il meglio del Viagra, questo è il titolo, Pfizer brinda in casso da 15 miliardi, il colosso americano a chiudere al 2021 con oltre 60 miliardi di dollari di ricavi. Il Siero è uno dei più grandi successi della storia, dice Albert Burla, 59 anni, che è amministratore delegato della Pfizer. Ricordiamo che il vaccino è prodotto anche insieme alla tedesca BioNTech e quindi i relativi utili andranno divisi a metà tra queste due case, tra questi due gruppi. Però insomma questi sono dati e quindi 15 miliardi di dollari di ricavi che sono attesi per il 2021. Come dicevo siamo soltanto alle previsioni di inizio anno perché poi non dimentichiamoci che avendo puntato tutto sul vaccino ed essendo il coronavirus un virus che probabilmente ci porteremo avanti come tutti gli altri coronavirus che abitano il nostro organismo e che fanno la loro comparsa ormai convivono con l'uomo, probabilmente questo vaccino dovrà essere ripetuto anche nei prossimi anni. Quindi immaginate voi cosa significa in questo momento essere nei panni di questo Burla che ha 59 anni ed è amministratore delegato di un'azienda che produce questo vaccino oltre tante altre cose come il Viagra per l'appunto da 15 miliardi ma sono solo previsioni. Mentre sotto, sempre sulla pagina del resto del Carlino, voi direte anche vabbè chi se ne importa, l'importante è che curi e l'importante è che ci salvino le vite, infatti la vita non ha prezzo. Verso il sì alle cure con anticorpi monoclonali, qui però al posto del vaccino parliamo come abbiamo già detto più volte della cura, che è una cosa diversa rispetto al vaccino, la cura con gli anticorpi monoclonali. Ora, dopo la Germania, scrive il giornale questa mattina, anche l'Italia sembra andare nella direzione di un via libera alle terapie anti-covid con anticorpi monoclonali in utilizzo di emergenza. Una decisione definitiva non è stata ancora presa ma il Ministro della Salute, Roberto Speranza sarebbe in pressing, cioè sta spingendo forte sull'Agenzia Italiana del Farmaco, ovvero AIFA, per accelerare l'approvazione di questi farmaci, perché sapete che in Italia ancora l'AIFA non si è espressa, anche se c'è questa riunione della Commissione Tecnica Scientifica dell'AIFA che dovrà esaminare i dati disponibili su questi monoclonali, quindi su questi farmaci. Sono dati promettenti ma non conclusivi e oggi, ha fatto sapere il Direttore Generale Magrini, avremo un'audizione delle ditte per condividere questi dati non ancora pubblicati che però sono di notevole interesse come approfondimento e faremo una valutazione. Sempre oggi, dopo l'incontro con le aziende, la Commissione Tecnico Scientifico AIFA si esprimerà sulle modalità di utilizzo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e si potranno così stabilire le categorie di pazienti per cui sono indicati questi monoclonali e utilizzabili gli anticorpi. Dunque i tempi sembrano stringersi in merito al costo invece di queste nuove terapie. Il governo italiano ha precisato, Magrini ha individuato un fondo e quindi abbiamo una disponibilità per coprire diverse decine di migliaia di pazienti. Ora, questi anticorpi monoclonali che sono stati già autorizzati in emergenza negli Stati Uniti, questi monoclonali sono indicati, secondo gli studi disponibili, in una fase precoce della malattia del Covid-19, mentre nei pazienti diciamo più gravi hanno dimostrato di non essere poi così tanto efficaci. La stessa AIFA ha pubblicato il 22 gennaio scorso il bando per lo studio clinico sui monoclonali e l'Agenzia Europea dei Medicinali ne ha avviato l'esame con la procedura accelerata. Ora, lo stesso Presidente AIFA, quindi Giorgio Palù, li aveva già definite, attenzione, salvavita, quindi il Presidente dell'Agenzia che deve autorizzarli, aveva già parlato di questi monoclonali come salvavita, sottolineando come sulla loro efficacia ci sono fior di studi e nessuna controindicazione. Ora, lo dice il Presidente. Poi va bene, per carità, tutto quello che riguarda le procedure perché siano controllati, che funzionino, che non abbiano controindicazioni, tutto quello che volete, ma io ho sempre il terrore e la paura e il sospetto soprattutto che qui si sia voluto comunque aspettare del tempo cercando di favorire invece più il discorso dei vaccini. Un discorso che abbiamo già fatto anche l'altro giorno e che adesso non sto qui a ripetere. Però, ecco, su questi monoclonali adesso vedremo insomma come andrà a finire ma probabilmente verranno autorizzati e dunque si potranno utilizzare. E rispetto a questa cosa che abbiamo letto poco fa, ovvero sul fatto che se dati ai pazienti in una prima fase possono funzionare, mentre quelli che sono già in un stato avanzato della malattia probabilmente non servono a niente, questo era un discorso che stava in piedi all'inizio, quando non sapevamo che pesci pigliare. Ora, siccome tutti sappiamo bene quali sono i sintomi, eccetera, quindi è difficile che si arrivi in uno stato avanzato. Quindi avere una medicina che ci cura, al di là del vaccino, è secondo me la cosa più sensata di questo mondo. Perché ormai sappiamo tutti e quindi sappiamo benissimo che se abbiamo il mal di testa prendiamo il moment, se abbiamo la febbre prendiamo la tachipirina, adesso sappiamo che se abbiamo questi sintomi prendiamo l'anticorpo monoclonale. Chiusa la parentesi, andiamo avanti, malattie, età e solitudine, così l'algoritmo deciderà il vaccino per gli over 80. Anche qui la questione dell'algoritmo, ormai la nostra vita è tutta un algoritmo. Che cos'è l'algoritmo? Sono quei programmi che servono in qualche modo per elaborare alcuni ragionamenti in modo automatico, in base a tutta una serie di informazioni che vengono inseriti. Poi l'algoritmo stabilisce chi deve essere curato, che età deve avere e tutta una serie di parametri. e deciderà appunto l'algoritmo a chi dare questo vaccino, somministrare questo vaccino per chi ha più di 80 anni, in base a questi parametri, se uno ha delle malattie, l'età, se è solo oppure vive con qualcuno, insomma tutta una serie di cose. I nomi dei pazienti saranno inseriti in una piattaforma da cui uscirà questa famosa fatidica lista. I vaccini sono arrivati, ma il piano arranca. Ieri sono state consegnate in Regione 10.530 dosi Pfizer e 1.700 Moderna, di cui 2.000 per l'area Vasta 1. La fase 1 è ancora a metà strada. Vedete come qui siamo nella cronaca di Pesaro. Ieri sono arrivate queste 10.000 passadosi di vaccino. L'area Vasta 1 ne sono state già annunciate complessivamente 2.000 in tutto, che permetteranno di proseguire le vaccinazioni della fase 1 anche nelle case di riposo, eccetera, eccetera. Quindi insomma, qui nonostante i rallentamenti, eccetera, la situazione insomma pare non essere poi così drammatica come in altre regioni dove hanno avuto dei tagli più importanti. Mancano all'appello però migliaio di medici, molti ospiti dell'RSA e operatori sanitari ancora di essere, che aspettano di essere vaccinati. Il Presidente dell'Ordine dice anche chi lavora fuori dagli ospedali deve essere chiamato al più presto. Poi però invece c'è quest'analisi che vi segnalo sempre sul Carlino di Pesaro di stamattina, l'analisi del Dottor Claudio Maria Maffei, che è stato già direttore sanitario all'Asla di Fano e dell'Inca di Ancona, che ora è membro del gruppo di studio Cronicon. Ora, che cosa dice questo dottore? Dice che gli screening di massa, secondo lui, non servono a granché. Parla di flop, perché per i negativi l'effetto è stato quello del libera tutti. Ora, che cosa significa questo? Significa che il cittadino cosiddetto medio, come lo definisce lui, ottenendo un risultato negativo dal tampone rapido, probabilmente ha pensato di avere il via libera. Infatti molti lo hanno fatto per andare a trovare i parenti durante le feste di Natale, non immaginando che quel risultato era valido solo per un giorno e andava eventualmente ripetuto per confermare la negatività. Ora, letta così, gli si potrebbe dare tutte le ragioni di questo mondo, ma l'abbiamo detto anche noi, spesso, quando invitavamo quei giorni a fare il tampone, il test rapido, abbiamo detto andatelo a fare perché è una cosa buona, no? Uno, soprattutto gli asintomatici, così hanno un'idea del loro stato di salute, se sono portatori del virus oppure no. Però abbiamo anche aggiunto immediatamente dopo che quello non significava però essere sano per tutta la vita, nel senso, o esente dal virus per tutta la vita, nel senso che bastava uscire, andare a prendere un caffè, al bar o fare qualsiasi altra cosa e immediatamente dopo il test prendersi il virus. Quindi non era un patentino, un lascia passare come lo definisce lui, però chiaramente ci ha dato in quel momento una fotografia, qualche positivo l'abbiamo scoperto, qualche positivo è stato messo in quarantena, quindi proprio, come dire, inutile del tutto io direi di no. Poi se andiamo a vedere certamente il discorso dei soldi, quanti soldi sono stati spesi per fare questi test che valgono per un solo giorno, questo è un altro discorso, ma come sempre in questi casi le coperte sono sempre troppo corte. Tamponi a scuola, vedete anche qui, spuntano altri cinque positivi, certamente, per tutti gli altri vale la regola che abbiamo appena detto, non è un lascia passare per tutti gli altri studenti, significa che devono mantenere ancora tutte le attenzioni, quindi mantenere il trend negativo. Tre studenti, un insegnante al Marconi, un alunno al Benelli, sale l'affluenza, oggi c'è questa ultima tappa, controllo anche per i servizi educativi. Convocato per lunedì 8, invece uno sciopero per il trasporto locale, forse i problemi per il rientro a casa dei ragazzi con l'autobus. Ci sono problemi effettivamente da risolvere anche sul discorso dei trasferimenti da casa a scuola e viceversa, per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma vedremo che cosa decideranno nei prossimi giorni. Reddito di cittadinanza, il campione raddoppia, il titolo del Corriere Adriatico, i furbetti salgono al 50%, le domande esaminate, ecco io qui preferirei evitare per esempio la parola furbetti, perché in realtà non sono furbetti, sono disonesti, è un'altra cosa. Non facciamo passare per furbo uno che furbo non è. Un disonesto è un disonesto, non è un furbo. Quindi questo è il problema. Comunque le domande esaminate passano da 600 a 1000, l'Inps sta per avviare centinaia di rebo, che va rivista al rialzo alla stima iniziale dei percettori indebiti, via alle segnalazioni, alle procure, e quindi insomma la situazione si fa complicata. Vi ho parlato nella giornata di ieri di quella ragazza di 21 anni di Foligno che pare dopo aver mangiato sushi, quindi pesce fresco, è finita all'ospedale in gravi condizioni, al Torrette di Ancona per un trapianto di fegato. Ebbene la notizia del giorno sul Carlino di Ancona è che questa ragazza di 21 anni è stata già operata ieri mattina alle 10. Entrata in sala operatoria, questa è la pagina di Ancona che descrive tutto quello che è accaduto dopo appunto l'intervento che c'è stato e che è durato addirittura 7 ore. La ragazza è entrata intorno alle 10 in sala operatoria per essere sottoposta a questo trapianto. L'intervento è durato più di 7 ore ed è stato effettuato dall'equip specializzata dal professor Marco Vivarelli. Ecco, vi facciamo vedere anche l'immagine di questa equip con il professor Vivarelli insieme ai medici della sua equip. E io quando ho visto questa fotografia stamattina, ma non per fare il populista perché non c'è bisogno di fare il populista, però mi è venuto in mente subito un flash è stato l'immagine sempre del giornale, la fotonotizia di qualche giorno fa di un calciatore, non ricordo il nome perché non seguo il calcio, pagato 550 milioni. Parliamo di un giocatore, cioè un essere umano che dà calcio al pallone, bravissimo, che dà spettacolo, che fa girare tanti soldi, di questo non c'è bisogno che noi parliamo tanto, ma che pagato 550 milioni. Ora, quanto vale invece, quanto dovrebbe prendere invece Marco Vivarelli, che sicuramente avrà un buon stipendio e se lo merita tutto, ma per dire, se vediamo, no, mettiamo, ci sono dei paradossi nella nostra, poi per carità uno se li merita tutti, forse sarà invidia la mia, sì, probabilmente sì. Appartamento in fiamme, famiglie evacuate, a Petriano un intero condominio è inaccessibile per 15 abitanti, il sindaco dice ci vorranno mesi per risistemare la situazione, si sente ancora questo odore acre di bruciato in via San Rocco, a Petriano dove lunedì sera un appartamento è andato in fiamme, costringendo il residente ad evacuare l'intero condominio di cui fa parte. Anche qui sul Corriere di Urbino, Rogo in Salotto, ci sono anche le foto dell'appartamento interno, guardate come è stato ridotto, notte shock, evacuate 14 persone, vigile al lavoro per ore a Petriano negli alloggi Erap, al pronto soccorso una donna, sua figlia di 16 anni e una donna di 97 anni, l'allarme è scattato intorno alle ore 21. Le fiamme, vediamo un po', causate forse da una stufa o una lampada che era vicina al divano. La pagina di Fano invece, Carnevale, questa era la settimana del Carnevale, il Carnevale non molla l'osso, settimana grassa prova di web, presentato il programma degli eventi, si ride anche con la storia e la letteratura, vi ricordo che tutta questa settimana cosiddetta grassa andrà in onda in esclusiva sulla nostra emittente, su Fano TV, quindi potrete seguire, poi anche sui social, potrete seguire questo Carnevale un po' strano quest'anno in diretta solo televisiva o comunque su web attraverso questo programma che è stato predisposto dall'ente carnevalesca, poi speriamo di poter vedere il Carnevale estivo, questo sì, si sta lavorando per, sperando che appunto il virus ci lascia il più presto e che durante l'estate si possa fare questa manifestazione estiva, quindi il Carnevale certamente non con le cioccolate ma con qualcos'altro, speriamo, speriamo che si possa fare qualcosa di bello. Baldelli e Rito Fanese, dice l'assessore regionale, sarà il trade union per tutte le marche, l'impegno di Carifano a favore della manifestazione, confermato il contributo di 10 mila euro per il 2021. Sequestrati al porto, 900 kg di sardine, operazione della Guardia Costiera, erano prive di tracciamento, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Fano, poi sorpreso a spacciare dosi di cocaina, un fanese condannato a tre anni e due mesi era insieme ad un ragazzo di Osimo, gli avvocati annunciano l'appello. E poi la morte, la morte del DJ Paolo Ricci, la musica fanese in lutto, se n'è andato lunedì mattina a soli 53 anni, Paolo Ricci, un DJ che ha fatto la storia della musica in questa provincia, lottava da tempo contro una malattia terribile, che alla fine purtroppo ha avuto la meglio nel suo fisico. Ieri sui social sono già apparsi i primi commenti, era grande appassionato di musica, aveva lavorato anche per Radio Fano. Paolo Ricci lascia la moglie e due figli, è un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, lo scrive il giornale questa mattina. E sulle pagine, le altre pagine di Fano dei giornali, allora Progetto Rondò, parliamo delle rotatorie sponsorizzate, rotatorie che si stanno mettendo a punto in questi mesi. L'assessore Brunori dice ci sono aziende interessate a sponsorizzare le rotatorie, ma vanno messe nelle condizioni di operare. Lavori conclusi per quella dell'interquartieri, realizzata all'incrocio con via 4 novembre. Monitoraggio invece ambientale, ancora non ci siamo, Mazzanti, Panoroni e Giuliani tornano alla carica sulla centralina di Bellocchi. Il Carlino di Fano, altro che grassa, sarà una settimana infernale, perché? Perché quest'anno è l'anno di Dante Alighieri, presentato il programma delle iniziative del Carnevale, che dall'11 al 15 si trasferirà sul web e, come vi abbiamo già detto, su Fano TV. Poi, sfilata estiva o grande mostra, carristi comunque al lavoro. Il giornale ricorda che il Carnevale di Fano è sulla cresta dell'onda, potremmo dire, dal 1346. La politica serie PD sulla cultura si allarga il fossato, la capogruppo Giacomoni pronta a restituire la delega dopo la scelta del sindaco di affidare a Marcheggiani gli incarichi sulla Romanità. Stasera l'assemblea del partito, irritazione tra i dem anche per la questione di Gimarra. Poi, nel quartiere della Trave, a Fano, la Lega promuove la viabilità, ora parcheggi in via Montenerone, mozione in consiglio e frecciatine all'amministrazione, ci hanno messo anni a recepire le richieste del quartiere. E poi Pagnetti sulla variante Fano Sud, se Aguzzi la vuole, ci metta però i soldi. Il concorsone appeso a un lavoro fisso, val bene l'effetto calca e cancelli, migliaia alla Vitri Frigo Arena per un posto da operatore socio-sanitario. Cercasi capo di gabinetto dal Carlino a Pesaro, poi sceglie Ricci, delibera di giunta ieri per la selezione su base fiduciaria del successore di Franco Arceci, che vedete nella fotografia, ormai prossimo al pensionamento. Cavalca Ferrovia, osservato speciale, arriva la videosorveglianza, il nodo sicurezza e poi truffa alla pensionata, anche il consulente è vittima, la replica degli avvocati del bancario dopo la notizia del rinvio a giudizio per frode informatica del loro assistito. Poi sedarono una lite furibonda, premiati due poliziotti, accadde in via Goito a Pesaro nel luglio scorso, uno colpito da un pugno, l'altro tagliato da un pezzo di vetro. Da Vallefoglia la carica dei 101 nati nel 2020, nell'anno più complicato il numero delle nascite è rimasto in linea con il 2019, 50 maschi e 51 femmine. Valmetauro, studi sulla Rocca Malatestiana, l'avventura è iniziata 50 anni fa, siamo a Fossombrone, Savelli racconta l'opera di sgombero delle macerie e polemizza sulla polizia del maschio. Mentre dall'ospedale a semplice RSA, siamo a Pergola, basta vedere i lavori in corso, la protezione civile rilancia l'allarme e si appella alla nuova giunta regionale. Chiudo solo con una pagina di sport, Vigilar Mad Store, questa sera derbissimo a Fano, alle 20.30 al Palasport di Volley, locali ancora in difficoltà, Vigilar senza Ruiz, i maceratesi però volano con gli Islander. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.